Sono le 5 e mezzo del mattino e io sono in ritardo per la limusina E poi ti fanno prendere fra un'ora, dimmi te Ecco il mio autista, gentilissimo Muoviti Grazie di tutto, ciao Frau E' il santo ragazzo di Ed che sta andando a vedere se ci trova una custodia per la tastiera Mamma mia Sto fatto da legare Però è gentile La serata è stata una figata della madonna Eh? Possiamo lessi che dobbiamo portare tutto questa roba Mazzoni Abbiamo fatta la spesa Non ci siamo sentiti da di comprare la pasta inglesa Ah, anche qui possiamo guardarsi in aranciallo Grandissima Che birra potrebbe avere? Questa O questa O questa O questa O questa O questa Il treno regionale 304036 proveniente da Andrea Svegliati E' diretto a Andrea Svegliati, porca troia E' in arrivo in ritardo al binario Marrabio Allontanarsi dalla linea gialla Siamo a reading, a reading, a reading, a reading inizia a piovere Stiamo correndo per prendere il treno Ma perché dobbiamo correre? Bastardo Cazzo facco Ok? No Nel frattempo la foto profilo di Whatsapp dei fratelli è questa Oh no Oh no, but my brother and my staff My staff He's been so in the film No, ma di film E' 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 di film eccoci mio piove dopo un'interminabile odissea sotto l'acqua di una durata pari a quella delle mie occhiaie quindi n come insieme ai numeri naturali sono arrivati o dentro l'aeroporto pronti per prendere il volo non ho neanche voglia di parlare con Andre voglio una mamma siamo arrivati a Londrina eccolo eccolo impossibile già dobbiamo questa è Kate la nostra tragrettatrice ospitatrice tutto senza Kate ah ci porta anche l'asta un contadino del Kent un contadino del Kent un contadino un contadino un contadino un contadino se se c'è un contadino c'è un contadino c'è un contadino e noi siamo a corsa c'è un contadino belli stiamo ciao fra muori di invidia c'è un contadino esatto cazzo vi presento il mio nuovo basso chicco chiuderò domani con ci con ci 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 Se stai guardando questo video ricorderai questo posto E come allora il nostro pasto è risicato